Ed eccoci qua ragazzi bentornati nel canale di Danix Siamo con un'altra modalità che c'è sempre inserita nella carriera Che si chiama Pirelli Hot Lap In realtà queste vanno fatte non so quante volte ci sono durante le gare di Formula 1 Però qui adesso siamo in Arabia Saudita Dobbiamo fare questo evento Lo vorrei provare perché in realtà ci dà mille di fama e centomila di moneta Quindi vediamo un attimo Come ho detto magari se vi può interessare li facciamo a video singolo o a parte Rispetto alla classica carriera Magari ne facciamo un paio all'inizio per vederli E poi se sono tutti uguali chiaramente me li farò io Adesso magari voglio vederli un attimo Quindi ve lo faccio vedere anche a voi E qui possiamo scegliere Scegliere velocità media Drift Salta e avanza Proviamo Ah cambia anche la macchina però McLaren e Aston Martin Andiamo con questo Drift mi sembra Una cacciata Lasciamo perdere il Drift Ok allora Dobbiamo fare come oro è 162.14 Velocità media Corri su questa sezione del circuito Dove la velocità media viene misurata Ora ho calcolato una velocità media Dopo tre tentativi La più alta vince Ma fai attenzione a non uscire dal tracciato La prova sarà nulla Eh sarà nulla Eh Uscire dal tracciato non lo so Vediamo un attimo Ma che visuali Ma che chiacchio è Ma è inguidabile Cioè non frena niente Non gira niente No aspetta Aspetta Questo la rifacciamo Adesso bisogna un attimo capire No la visuale Lasciamo quella Dalla coffa Sai che qua Toga frenare Di botto Eh vabbè già È difficile Che la pista vuole Ma non lo so se la Eh no Ma non abbiamo fatto 152 km Dovevamo fare 162 km Quindi non abbiamo manco fatto argento Si può riavviare? Eh bisogna un attimo Ma non frena Ma non frena niente Cioè non frena e non gira No no vabbè Questa va un attimo Eh no no Riavvia subito Ah perché è a tre round Il primo è squalificato Il secondo è andato Terzo è andato No vabbè No Chiaramente Adesso dobbiamo un attimo Studiarcela E la riproviamo subito Finché non riesco Almeno voglio vedere Il problema è che non frena Non ammazza Cioè bisogna frenare Non molto Di più No Devo settare sicuramente Lo sterzo Per quanto riguarda La guidabilità Di queste magie Perché non Non sterzo Né non freno No vabbè Comunque Andiamo avanti Andiamo comunque Tre tentativi Quindi Non riesco ad andare Il tanto che mi dice Il tanto che mi dice lui Eh no 162 Non ce la farò mai Non ce la farò mai Perché devi uscire Molto veloce Nella Nell'altra curva E quello è il problema E' quello il problema Allora facendo Facendo molti tentativi Secondo me si riesce Perché penso che si può fare 160.85 Ho provato in tutti i modi Ma non c'è stato verso Vabbè Poi vediamo Come ho detto Se ce ne sanno altre Il problema A vedere A video Tenete me le farò Per conto mio Tanto sono con le Con le sfide Così rapide Rapide Che niente di Niente di che Vabbè ragazzi Direi che ci vediamo Come il prossimo video Era un video breve Tanto per farvi vedere Quest'altra modalità Poi ci vediamo Direttamente con i weekend Di Jade Vediamo cosa Riusciamo a combinare Se è una pista difficile Anche se Nell'altro F1 Ricordo che era uscita Una buona gara In realtà È una pista veloce Però è difficile Superare Ci sono anche punti Stretti Però vediamo Dai Noi ci vediamo Alla prossima In descrizione Trovate la pagina Facebook Twitter Proferista Ci vediamo Al prossimo video Salute a tutti Da Dax0689